La battaglia contro la localizzazione della Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco nel progetto Case di Sassa al Nucleo Industriale non si arresta e il Comitatus Aquilanus, il Coordinamento Edilizia Residenziale Pubblica e l'Unione Inquilini hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica e a tutti gli altri organi competenti. Non è un no alla scuola in sé, ma dove sarà collocata, per una serie di ragioni spiegate dall'architetto Antonio Perrotti, formorestando che molte famiglie non se ne vogliono andare dopo 12 anni e si legge anche in un cartello appeso ad una palazzina. Si tratta di una zona agricola, sostiene il coordinamento, e dove in passato ci sono state delle alluvioni importanti che tutti gli aquilani ricordano. Inoltre, essendo opera statale, ci sono tutta una serie di adempimenti, osservazioni ITER da fare, l'intesa con la Regione, la variante urbanistica al piano regolatore vigente, sostiene Perrotti e ancora servono perizie geologiche, parere del genio civile e dell'autorità di Bacino, una conferenza di servizi con tutti gli enti interessati, per questo il coordinamento chiede maggiore trasparenza. Il problema è che gli atti assunti fino adesso non hanno nessun valore, nessuna efficacia, nessuna rilevanza esterna. Per di più, abbiamo scoperto attraverso l'analisi legale che questa è una vera e propria opera statale, quindi ha bisogno di un'intesa Stato-Regione sentito il Comune. Queste sono deliberazioni di Consiglio regionale e di Consiglio comunale, che poi questo intervento si configura come una variante sostanziale al piano, perché di fatto viene a creare una nuova polarità in questa zona e andrebbe verificata anche la congruenza sotto questo profilo. Va fatta una variante urbanistica con tutti i presupposti, la perizia geologica preventiva, il parere del genio civile e quanto altro. E deve andare in Consiglio comunale e essere approvata da provincia e regione. L'altra questione è che poi è una zona a rischio alluvionale. Con il filmato e le foto che vi abbiamo dato dimostriamo che questa zona è stata oggetto di un paio di alluvioni abbastanza consistenti che hanno messo a rischio sia l'accessibilità in questa zona che tutti i piani terra delle case costruite. Quindi sotto questi due profili, sotto il fatto che di fatto il nuovo intervento è un intervento strategico che non può stare a rischio alluvioni e chiediamolo la delocalizzazione, è più che motivata. In tal senso insisteremo e stiamo presentando a questa spot a tutti gli enti e i soggetti competenti ai vincoli.